Gli investigatori continuano a lavorare per scoprire chi ha ucciso Michela Strever anche nel giorno della vigilia di Natale. Potrebbe essere una telecamera a svelare chi ha ammazzato la pensionata trovata morta dal fratello Antonio. I proprietari di una delle villette della zona, infatti, qualche mese fa a scopo preventivo, hanno installato all'esterno della loro casa un impianto di videosorveglianza. Chiunque la mattina del 19 dicembre ha raggiunto la casa di Michela Strever deve essere passato a pochi metri dall'obiettivo. L'occhio della telecamera potrebbe aver catturato l'assassino sia quando è arrivato che quando è fuggito. I magistrati nelle ultime 48 ore hanno ascoltato moltissime persone, non solo parenti. Gli investigatori in particolare stanno verificando se gli autori della tentata rapina subita dalla Strever l'estate scorsa possano avere in qualche modo a che fare con l'aggressione letale subita dalla poveretta. Non è escluso che anche questa volta, all'origine dell'omicidio, ci sia la droga. L'assassino di Michela Strever, come i presunti responsabili della morte di Albina Paganelli e dei coniugi del vecchio, potrebbe avere problemi di tossicodipendenza. Gli investigatori sono tornati a chiedere ai RIS di velocizzare al massimo le analisi del DNA e dei reperti recuperati accanto al letto, in cui Michela è stata trovata legata. Il casolare del delitto, per il momento, resta sotto sequestro.